Direi molto bene, sono soddisfatta di quello che hanno fatto i ragazzi, di come si sono comportati e del pubblico che c'è stato. Non potremmo chiedere di meglio. Filato tutto liscio, come si suol dire. Ringrazio anche il coreografo Giancarlo che è riuscito a creare una bella coreografia e un'atmosfera particolare. Questa serata è stata una delle migliori a cui ho partecipato, è stato un saggio veramente bello, il pubblico è stato calorosissimo, mi hanno lasciato addosso una pelle d'occa alta così, è stato veramente emozionante, c'era tanta gente, è veramente bello. Ormai la stagione si è conclusa, adesso i prossimi appuntamenti sono gli appuntamenti estivi, quindi allenamenti intensivi, l'idea è quella di andare in Russia, di allenarmi con gli allenatori russi per poi iniziare la stagione agonistica a settembre con delle gare e appuntamenti internazionali già importanti per fare il ranking italiano. Grazie. 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 Grazie.